ciao ragazze che lo scusa stavo facendo il video oggi o questi dovuto interrompe questi coccolò di suite love di clio e opto questo ho messo questo qua alla fine dell'occhio che sherry ciò che l'ho sfumato un po col pennellino poi ho portato i quattro che avevo di cat fondi che sono molto brillanti comunque gli altri sono gli altri tre e che ho uno scusate crostatina che questa con gli ultimi questo che è quello che vi ho mostrato adesso poi questo arancio che gioco chili e questo qui che sul rosato che sorbetto metto ancora un pochino di questo qui alla fine dell'occhio se poi ho riportato questa che mi spiace che è andata sold out in effetti l'avevo presa da è ormai un bel po subito dopo natale mi sembra perché poi poi volevo mettere questo qua che bello luminoso sempre con lo stesso pennellino e lo porto qua poi riprendo l'altro però prendo anche con ops con le dita lo sfumo un po di più questo sono bellissimi questi mi hanno già mostrati sul sito di cat fondi o se no se for a non so se ne ancora non ho idea proprio scusate la mano bella davanti riprendo un po di questo poco poco applicare qua ecco questo si asciugano subito di fatti poi fare un po in fretta prendo un pochino di questo proprio poco prendo anche lo specchietto perché io ho sempre la carta igienica fa niente ok poi prendo con il dito ok poi vi mostro cosa ho messo col pennellino piccolo metto un po di più questo metto la matita nera si vede meglio e vabbè allora la matita nera e vabbè allora la matita nera ho fatto il mascara il mascara questo ormai sta finendo 4 mesi mi sembra che lo uso e il resto ce n'è ancora ma non dà più la resa che mi dava all'inizio perché è sta ultimando va bene ora il nominante metto questo oggi il make up l'ho terminato ah era il rossetto quello di mesaudo che vi avevo già mostrato quello di stick e la solita matita di uda un bacione ciao 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 ciao